Un nuovo gruppo di bambini ucraini che hanno bisogno di cure è stato accolto questa mattina all'Istituto Materno Infantile Burlo Garofolo. Si tratta del terzo gruppo di profughi in età pediatrica che la struttura ospedaliera prende in carico dall'inizio della guerra in Ucraina. Al momento, fa sapere il burlo, sono una cinquantina i piccoli pazienti seguiti dallo staff medico sanitario dell'ospedale. Di questi, tre sono ricoverati. Oggi il gruppo è arrivato verso le 8 del mattino. Si tratta di otto bambini accompagnati da sei mamme. In totale l'ospedale attendeva 39 persone, di cui 19 bambini, ma alcune sono rimaste bloccate dalla guerra e dal covid. Il gruppo è stato sottoposto a tampone. I bambini sono stati visitati, ma nessuno di loro è stato ricoverato. Si tratta di sei bambini fragili, conclude l'ospedale, con patologia cronica e due fratelli. Ora sono stati accolti all'angolo dei ciliegi di Upicina, alloggio messo a disposizione dal Comune di Trieste.